La caduta del muro di Berlino è stato l'evento che più di ogni altro ha simboleggiato nell'immaginario collettivo, la dissoluzione dell'impero sovietico e il crollo dell'ideologia comunista nei paesi dell'est. Fino ad allora la politica di assoluta segretezza, mantenuta dal governo di Mosca su tutto ciò che non fosse conforme ai dettami del regime, aveva impedito quasi totalmente la circolazione di qualsiasi tipo di notizia o documento riguardante l'attività degli oggetti volanti non identificati nelle terre dell'ex impero sovietico. Grazie al nuovo corso di trasparenza ed apertura voluto dall'ex presidente Gorbachev ci si è resi conto che oltre cortina la situazione relativa a questo particolare fenomeno era praticamente la stessa che nel resto del mondo. Infatti potremmo vedere che ricercatori, scienziati, militari e cosmonauti sono pervenuti autonomamente alle stesse identiche collusioni dei colleghi occidentali senza che abbiano potuto avere scambi di notizie, documenti e dati al di fuori della Russia. Questo fatto costituisce un'ulteriore prova a sostegno delle intrinseche caratteristiche oggettive e positive del fenomeno e dell'identica metodologia operativa che le civiltà provenienti dal cosmo stanno adottando in questo tempo nei confronti di tutta l'umanità del pianeta Terra. È emerso inoltre che l'atteggiamento stile dei governi delle due superpotenze verso il fenomeno UFO era stato praticamente lo stesso, nonostante la totale differenza delle ideologie politiche e dell'ospra guerra fredda in atto in quegli anni tra i due blocchi. Oriente ed Occidente hanno adottato, seppur con alcune differenze, la stessa politica di intimidazione, persecuzione e discredito verso gli studiosi, i testimoni e gli eventi da essi vissuti, costituendo allo stesso tempo commissioni segrete che avevano il compito di occultare e studiare le prove di questa presenza. Sembra che già nel 1947 Stalin si fosse interessato agli eventi relativi al crash di Roswell, incaricando alcuni dei suoi più fidati collaboratori di studiare il fenomeno. Successivamente altre indiscrezioni sono trapelate grazie a ricettori come l'americano Frank Idwas, il quale divulgò la notizia di un incontro segreto tra le potenze vittoriose della Seconda Guerra Mondiale avvenuto a Ginevra nel 1955 per decidere una comune strategia nei confronti degli oggetti volanti non identificati. Esempi di questo tipo di accordi si sono avuti anche negli anni successivi. Nel Trattato per la riduzione dei pericoli sullo scatenamento di una guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica, firmato a Mosca il 30 settembre del 1971, all'articolo 3 si può leggere testualmente. Le parti si impegnano ad informarsi immediatamente l'un l'altra non appena rilevino oggetti volanti non identificati, mediante i sistemi di preavviso di attacco missilistico, oppure si manifestino disturbi a questi sistemi o ai corrispondenti mezzi di comunicazione, se si fatti fenomeni possono determinare il pericolo di scatenamento della guerra nucleare tra i due paesi. Va ricordato inoltre che durante uno degli incontri tra gli allora presidenti Reagan e Gorbachev, il capo di Stato americano ebbe a dire che i contrasti tra le due superpotenze si sarebbero potuti agevolmente superare se si fosse dovuto far fronte comune verso il pericolo di una invasione da parte di una potenza aliena proveniente dagli spazi esterni. Nonostante sia risultato chiaro a tutti i governi il carattere pacifico della presenza extraterrestre sul nostro pianeta, essa genera nelle autorità costituite di qualsiasi cultura, dottrina religiosa o credo politico, le stesse paure e le stesse violente reazioni. Qual è il motivo di tanto timore? Una risposta possiamo trovarla nelle quasi profetiche parole pronunciate dal padre della rivoluzione russa, Lenin, quando inaspettatamente nel 1920 fece la seguente dichiarazione. Se riusciremo a stabilire delle comunicazioni interplanetarie, tutti i nostri concetti filosofici, morali e sociali dovranno essere riveduti. Ciò imporrebbe la fine della regola della violenza, quale mezzo e metodo di progresso. E sono i fautori di questa regola della violenza, coloro i quali sicuramente avrebbero molto da perdere da una presa di coscienza dell'umanità su una realtà che scuoterebbe dalle fondamenta l'attuale inumana metodologia di governo dei popoli. Uno dei primi occidentali ad aver avuto l'autorizzazione a recarsi in Unione Sovietica per parlare pubblicamente di queste tematiche, ancora prima che avvenisse il crollo definitivo dell'impero sovietico, è stato l'italiano Giorgio Bongiovanni. Egli poté, già nel 1992, esporre su questi argomenti e su altri a forte valenza spirituale, di fronte a migliaia di persone a corse alle sue conferenze, alla televisione pubblica di Stato e persino in Parlamento, davanti ai deputati del popolo. Questo inaspettato risultato poté realizzarsi dopo un incontro che Bongiovanni ebbe a Madrid con l'allora presidente Gorbaciov, il quale lo autorizzò a recarsi in Unione Sovietica per parlare di questi temi. Successivamente si è rivelata di grande importanza la notevole ed inaspettata apertura della televisione di Stato, che ha attivamente collaborato, permettendo la diffusione di argomenti a carattere ufologico e spirituale ai circa 150 milioni di telespettatori sparsi in tutte le ex repubbliche sovietiche. Grazie a questa intensa attività divulgativa e di ricerca, sono stati raccolti importantissimi documenti e testimonianze relativi alla realtà extraterrestre in Russia. Sino all'avvento della presidenza Gorbachev, i documenti russi sugli UFO traverati in occidente erano scarsissimi. Di filmati non si aveva alcuna notizia e il tutto si limitava ad alcune foto in bianco e nero di cui stiamo vedendo una selezione. Questi documenti erano la scarna testimonianza che qualcosa stava succedendo anche nei paesi dell'est, ma non erano certamente sufficienti per una valutazione approfondita dei vari casi o per avere un quadro generale della situazione. Circolavano anche voci di coinvolgimenti di militari e cosmonauti in casi d'avvistamento, ma anche per queste notizie vi era l'impossibilità di una qualsiasi verifica diretta. Il filmato realizzato a Sebastopoli in Crimea è stato uno dei primi documenti video sugli UFO realizzati nell'ex Unione Sovietica ad essere conosciuti in occidente. Fu donato a Giorgio Bongiovanni nel 1993 da uno dei testimoni diretti dell'evento, il signor Nikolai Yegorov. Questo filmato ha destato grande scalpore in tutto il mondo, sollevando anche alcune polemiche sulla sua autenticità. I tecnici della Panasonic, nota marca giapponese costruttrice della telecamera con cui era stato realizzato il video di Sebastopoli, affermarono che la forma dell'UFO presente in questo filmato era dovuta ad un'aberrazione ottica dell'immagine provocata dal diaframma della telecamera stessa. Ma a prescindere da questo fatto, resta indubitabile la reale presenza nei cieli della Crimea di un velivolo anomalo che compie evoluzioni non possibili ad alcun apparato d'origine terrestre. Presenza confermata inoltre anche dagli stessi testimoni oculari dell'insolito evento. Il video fu consegnato da Giorgio Bongiovanni ai maggiori ricercatori di tutto il mondo, tra i quali il celebre studioso spagnolo Juan José Benítez. Quest'ultimo fece analizzare il video da un istituto militare spagnolo e l'esito delle analisi ha confermato l'assoluta genuinità del filmato di Sebastopoli. Dopo questo primo importantissimo documento, Giorgio Bongiovanni e il suo gruppo hanno realizzato una serie sempre più importante di tappe che hanno fatto capire quanto anche nei paesi dell'est fosse stato attivo e compreso nella sua più intima essenza la caratteristica del fenomeno UFO. Uno dei primi importanti incontri avuti da Giorgio Bongiovanni in Unione Sovietica è stato con il colonnello Mikhail Zagarchuk, direttore del bollettino di informazione del Ministero della Difesa. In questo colloquio, il colonnello Zagarchuk si è dimostrato molto aperto e disponibile a parlare del tema UFO, di cui ha ammesso di interessarsi già da vari anni. Io penso, io penso, io credo che non siamo soli nel universo. ...gluvano in un'impegabile... ...e il terzo dell'estrata del terzo dell'estrata... ...che i militari e i soldati abbastano spesso... ...vedono questi fenomeni... ...incipiabili... E se noi parliamo di parlare o concretenso inizialmente 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 inizialmente. E se siamo inizialmente 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 sempre la prima volta. e poi c'era corrispondenza fra la la velocità dei spostamenti diciamo così però voglio dire che davvero questo è il suo lavoro e il suo lavoro è il suo lavoro che è successo quando si è successo quando si è successo a questo obiettino si è successo quindi per instruzione non è più che a qualche risposta in questo caso in quanto riguarda l'obietta per la scuola di rispondi il resto di rispondi obiettivi nel ragione in regioni in regioni in regioni questo caso non posso ricordare nel prossimo in regioni in regioni in regioni in regioni ma come regola fanno questi fenomeni vedono questi fenomeni il divieto di attaccare con le armi questi mezzi è stato una conseguenza di alcuni violenti episodi di cui si è avuta notizia anche in occidente in alcuni casi ci sarebbero state decise reazioni da parte di questi mezzi alieni alle ricorrenti e ingiustificabili aggressioni armate attuate dai militari nei loro confronti in conseguenza dei gravi danni riportati i vertici militari russi avrebbero deciso di mettere in pratica i consigli di non usare le armi nei casi di intercettazione consigli fatti pervenire innumerevoli volte e attraverso vari canali da parte di questi esseri nonostante l'apertura in atto già in quel periodo il colonnello Zakarsk conferma la difficoltà di portare avanti questo tipo di ricerche non era molto impossibile dicevano che non esiste il UFO e basta per adesso abbiamo più toleranza più pazienza Alexander Kazantsev è uno dei più famosi quasi mitici pionieri dello studio sugli UFO e la realtà extraterrestre non solo della Russia ma del mondo intero questo coraggioso personaggio ha osato parlare di questi temi in epoche nelle quali si correvano molti rischi e non solo professionali la sua fama è dovuta anche alle sue ricerche sul misterioso disastro della Tunguska avvenuto agli inizi del secolo nella remota zona siberiana omonina esso fu causato secondo Kazantsev dall'esplosione di un'astronave extraterrestre inoltre grande eco ha avuto in tutto il mondo la sua teoria secondo la quale le statuette bronze giapponesi chiamate Dogu vecchie di oltre 4000 anni rappresentano esseri vestiti con tute praticamente identiche a quelle dei moderni astronauti un fatto che secondo Kazantsev indica la presenza di esseri extraterrestri sul nostro pianeta sin dall'antichità pes nourricленo di esseri la quale紹介 questi esseri existono si vengono su terra vengono su terra abitanti degli altri mondi e poi faccio vedere le prove di questo almeno nel passato e forse anche oggi secondo studi radioattivi abbiamo constatato che questa statuetta conta più di 4.000 anni ma allora i giapponesi ancora non abitavano sulle isole ho mandato una foto di una mia collezione una di queste regalate a Giorgio e Nasa mi ha risposto che questa statuetta in generale riproduce la tuta cosmica che è stata Nasa una di calefornilistiche firm che adesso ha che adesso ha americani hanno ordinato hanno notato questa tuta professore come poter letta ci sono qualcuno ha visitato la terra dove i appartamenti appartamenti, i appartamenti, aine, a fare una scuola. E poi hanno riprodotto questo... e poi hanno divinizzato questo... e poi hanno divinizzato questo... La cosa curiosa, qui vediamo le occhiali, polarezzati, pola, casca, ermetica, qui si chiama questa finestrino, per sorvelliare, ambienti, che sono tecnologie moderni, anche se fosse stato creato nei tempi. Non si può immaginare tutto questo nell'epoca di Pietra. Secondo l'opinione di Kazantsev, questa visita continua ancora oggi ed è portatrice di valori positivi che cercano di proiettarci al di fuori della grave crisi ambientale e sociale che stiamo vivendo attualmente. Pricom, in Carriera, abbiamo raccogli già più di 1500 settimane, per raggiungere le persone che possono venire da noi solo portando in scopi molto umani e alti. A cercare di rifarci capire che dobbiamo cambiare la situazione, rifiutare l'energia nucleare, dobbiamo rifiutare inquinamento. Sempre aumenta di più la possibilità della catastrofe, disastro legato con inquinamento, poi quelle tecnologie che noi possediamo. Sempre da più, come si dice, come risultato di queste tecnologie noi abbiamo quasi la completa rovina della natura. Nel marzo del 1992, nella città spaziale di Mosca, l'importante centro dove vengono istruiti ed allenati i cosmonauti russi, Giorgio Bongiovanni si incontra col cosmonauta ora generale Vladimir Kovályonov. Egli racconta di aver avvistato nello spazio un oggetto di natura non terrestre il 5 maggio del 1981, durante uno dei voli della missione Soyuz. Il generale Kovályonov racconta, illustrandola con dei disegni, la strana manovra di un oggetto che si divide in due parti, ognuna delle quali prosegue il suo volo autonomamente. Nel 1981, a mezzo del 1981, durante la genastica, io facevo genastica nell'orbita, ho visto, sì sì, a bordo dell'astronauta, l'illuminatore, il cosmo, il sedano, l'orbita, perché sono stato davvero nell'orbita, ho visto un oggetto. Davvero, questo era, non assomigliava a quegli oggetti cosmici che vedevo prima, e io parlo di navi spaziali, poi è successo qualcosa che per me è molto difficile spiegare dal punto di vista fisica. Questa forma, ho visto questo, come si chiamava, spazio? Sì, così, perché io non conosco nessuna tecnica che poteva fare questi movimenti, stringersi, puoi allargarsi, però questi movimenti possono testimoniare che questo oggetto era dell'origine artificiale, cioè è stato creato da un soggetto, da un'intelligenza. Canto in terrasumum? Diciamo così, sì, proprio da un'intelligenza. Per quanto riguarda la nostra conoscenza, non posso immaginare le spiegazioni, e nelle produzione terrestre non posso immaginare che in cosmo faceva questi movimenti, e poi, allora questo era un oggetto materiale sicuramente, perché se fosse questo un gas, non abbiamo avuto questo fenomeno di scatto di depresione. No, quindi hai domande. E la prima, lei pensa che nell'universiteto infinito, cosmo, che ci sono state altre intelligenza, come cosa stessa? E le due delle cose, cosa sono non funzioni? Una delle cose, come la scatto di nacenze, anche le delle nostre ozze, Credo, esiste la intelligenza, la altra, le nostre intelligenza? Credo. e penso che questa intelligenza forse è ancora più superiore da quella che esiste nella Terra. Quest'ultima affermazione del generale Kovalyonok è indicativa di una conoscenza molto più profonda della reale natura del fenomeno UFO e di chi ne sia l'artefice. È da sottolineare che a quel tempo non si avevano ancora documenti filati in merita questa particolare capacità degli oggetti volanti non identificati. Uno dei primi video ad essere conosciuti fu registrato allo zoo di Sydney in Australia da un turista italiano di nome Giancarlo Bertini. Questo documento filmato è stato successivamente mostrato al cosmonauta russo Aleksandr Polieshuk. Dietro si vede dietro gli alberi? Vedete come sono i nostri деревni? E fino a quando esce anche? E poi si vede. Vedi? Questo non è il montaggio, sicuramente. Il colore poi, gli spostamenti, che non possono essere un aereo. Tocchini, sicuramente, non è parecchio a un samolioto, diciamo. Sì, questo è il pericolamento, è un spostamento che fa così, poi di là e poi ritorna. La verità è la pericolazione. Dal punto di vista di fisica della FICA, secondo Newton, è inspiegabile. Il commento stupito di Aleksandr Polieshuk indica che anche per uno specialista, qual è un cosmonauta, le capacità tecniche manifestate da questi velivoli sfuggono alle nostre attuali conoscenze scientifiche. Altri cosmonauti russi hanno dichiarato di avere la ferma convinzione che non siamo soli nell'universo. Tra questi ricordiamo il cosmonauta Krikayov. Sì, cosa ne pensa lui della possibilità dell'intelligenza nel cosmo? Un cosmo così infinito. Cosmo così infinito. Perciò non ho dubbi che l'intelligenza esiste nel cosmo. E io lo so che tra uomini e scienziati tutti pensano, tutti scienziati, pensano che il cosmo è abitato, sì. E ha una civilizzazione che è più vecchia di nostra, più sviluppata di nostra. Forse tutta questa civilizzazione si manifesta attraverso questo fenomeno. Nell'ottobre del 1992, Giorgio Bongiovanni, dal centro di controllo dei voli spaziali di Mosca, parla in diretta con i cosmonauti della stazione orbitale Mirna. Essi confermano che il volo nello spazio produce uno stato particolare nell'animo dell'uomo. Un fenomeno già testimoniato dagli astronauti americani e confermato anche da altri cosmonauti russi. Sono Giorgio Bongiovanni, che vi saluto al nome del nostro gruppo Non Siamo Soli e del mio padre spirituale Eugenio Siragusa. Per noi è un onore parlare con voi che siete nello spazio. Perché dallo spazio si può sentire meglio e vedere meglio lo spirito di Dio. Possiamo dire ancora che questa altezza dalla terra certo c'è vicina più a Dio. Ma lo stato dello spirito dell'uomo, lo stato interiore dell'uomo, l'umore dell'uomo, migliore. E' un po' di politica. No è vero. C'è un po' di cui c'è un po' di ragazzi che erano in cosmonauti che con l'uomo ci sono stati qualcosa di strano. E gli cosmonauti che sono stati nel cosmo hanno un parere che nel cosmo succede qualcosa di strano con l'uomo. E gli avdei e gli avdei hanno detto che io mi sono cambiato però non so come spiegarlo. Relativamente alle vicende dell'astronautica sovietica uno dei pochi fatti anomali ad essere documentati e conosciuti in Occidente è accaduto nel 1989 durante la missione di una delle sonde inviate verso Marte. Il 27 marzo i controllori di volo della Phobos 2 persero il contatto con la piccola sonda inviata verso il pianeta rosso con lo scopo di studiare le caratteristiche del satellite naturale marziano Phobos. Le caratteristiche anomale di questo piccolo corpo celeste già da tempo hanno attirato l'attenzione degli studiosi di tutto il mondo al punto che i più arditi ricercatori hanno avanzato l'ipotesi che potesse essere un oggetto di natura artificiale messo in orbita da una ipotetica civiltà marziana. Una ipotesi confermata dal contattista Eugenio Siragusa il quale divulgò un messaggio datogli da un essere extraterrestre dove veniva specificata la sua funzione e cioè di convogliare verso il pianeta rosso energia solare. Energia utilizzata sempre secondo quanto rivelato da questo comunicato da una avanzatissima civiltà marziana oggi esistente su un piano dimensionale da noi ancora non sondabile. L'improvvisa scomparsa della sonda mise in subuglio i tecnici e gli scienziati sovietici che non seppero darsi una spiegazione plausibile di questo incidente. Ad aggiungere ulteriore stupore e confusione contribuirono le ultime foto inviate a terra dalla suda Phobos 2. In queste foto scattate a otto ore l'una dall'altra era visibile una enorme ombra sul suolo marziano un'ombra lunga circa 25 chilometri che non poteva essere causata dal satellite marziano e tantomeno dalla piccola sonda terrestre. Solo un altro oggetto di enormi dimensioni che si fosse frapposto tra il sole e la superficie di Marte avrebbe potuto provocarla. Un oggetto la cui improvvisa ha comparsa coincide stranamente con la repentina cessazione delle trasmissioni tra la sonda Phobos 2 e il centro di controllo a terra. I tecnici sovietici spiegarono che l'interruzione dei collegamenti era avvenuta nel momento in cui gli obiettivi delle camere fotografiche della Phobos 2 dopo aver scattato le due foto dove compare la strana ombra venivano puntati nella direzione da dove essa proveniva e dove si trovava anche il satellite marziano Phobos. Venne anche detto che la sonda fece in tempo a scattare un'ultima foto ma essa non venne mostrata infittendo ancora di più il mistero e i sospetti su questo strano incidente. Ma inaspettatamente questa ultima foto fu mostrata dalla studiosa russa Marina Popovich durante un congresso sugli UFO tenuto in America nel dicembre del 1991. In questa foto ufficiale dell'Agenzia Spaziale Russa è possibile vedere il satellite marziano Phobos e un oggetto sigariforme di circa 20-25 km di lunghezza molto vicino al satellite di Marte. Una foto ufficiale sulla quale nessun commento è stato fatto dall'Agenzia Spaziale della ex Unione Sovietica e che dà il chiaro segno di una presenza non terrestre che vigila ed interviene quando non condivide il nostro operato. Questa presenza è visibile in un altro filmato realizzato dal cosmonauta Musa Manarov durante l'aggancio con la base orbitale Mirra. In questo documento registrato il 5 giugno 1993 possiamo osservare nei pressi della stazione terrestre un oggetto luminoso sigariforme la cui lunghezza, stimata dai ricercatori, è di circa un chilometro. Questa presenza si è manifestata altre volte nei pressi della stazione orbitale russa. I filmati che stiamo vedendo registrati dagli astronauti della navetta spaziale americana nel maggio del 1997 ne danno testimonianza. Nelle immagini possiamo vedere degli oggetti luminosi eseguire vicino alla Mir delle manovre che denotano una propria autonomia di volo. L'ex cosmonauta russo generale Pavel Popovich noto anche per la sua attività di ricerca sugli oggetti volanti non identificati ha dichiarato di aver avuto esperienza diretta di questa realtà e di aver ricevuto documentazione appartenente ai servizi segreti russi dove si evidenzia la perfetta conoscenza e lo studio da essi attuato sul fenomeno UFO. Io ho avuto un obiettivo con un obiettivo ma non nel corso cosmonautico ma nel corso del corso in Mosca. Io ho avuto un obiettivo in strano formale trangere che si avuto parallel al corso del corso del corso che si avuto примерно на 1500 metri на расстоянии примерно около километра шел со скоростью se il nostro samoletto 950 on где-то 1500 perché si è stato il nostro samoletto e scrylo io ho abrati all'inizio tutti i passaggi eikipati e noi non potevamo non potevamo che questo è un obietto ma che questo non è un obietto è un obietto ma che questo è un obietto proprio rauvo il bianco 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 siano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io so che molti amici miei cosmonauti, i primi, firmavano un documento. Grazie a tutti. Non informeranno nessuno su niente che sanno su questo argomento. Grazie a tutti. L'affermazione del professor Kazantsev sull'attività di studio sugli UFO, svolta dai militari della contraerea russa, viene inaspettatamente confermata da un importante evento verificatosi nel 1997. In tale data, Giorgio Bongiovanni e il suo gruppo si incontrano con una equip militare della contraerea che studia il fenomeno UFO ed extraterrestre per conto del governo russo. Ma veniamo ora ai fatti. Oltre al generale comandante, la delegazione russa era composta dal referente del generale, tenente colonnello Boris Sidorenko. Dal maggiore Vyacheslav Bulogic, incaricato dal generale Reshetnikov, in qualità di specialista per la ricerca sugli UFO e sugli alieni in Russia, e dall'ufficiale per la stampa militare dell'Accademia, Mikhail Belov. Le due delegazioni sono state costantemente accompagnate e assistite dal colonnello Vyacheslav Zurkin, agente speciale del controspionaggio russo in Europa per l'agenzia governativa FSV, conosciuta sino a pochi anni fa con la sigla ben più nota di KGB. Ascoltiamo ora le fasi più salienti di questo storico incontro. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. , a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. i figli. a tutti. a tutti. anche se tutti. i figli. a tutti. e a tutti. a tutti. e tutti. a tutti. e tutti. e tutti. a tutti. a tutti. su. e tutti. e tutti. con termini. tutti. e tutti. e tutti. e si vede. e tutti. e tutti. e tutti. tutti. e tutti. 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 e tutti. quindi. e tutti. 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 e tutti. 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 . e tutti. 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 . . tutti. sulla terra nel nome di Dio, viene dato grande importanza al ruolo che la Russia avrebbe potuto avere nella crescita spirituale dell'umanità. Una spiritualità che deve essere sviluppata attraverso una profonda ed autonoma ricerca interiore, sganciata dalle metodologie massificanti della scienza, della politica e delle religioni istituzionalizzate, il cui scopo principale si è indirizzato verso la gestione e l'ampliamento del potere economico e temporale. Nella comprensione di tutte queste ed altre complesse componenti vi è la soluzione del mistero degli UFO, un mistero nel quale è racchiusa la chiave della sopravvivenza della nostra umanità e il futuro del pianeta delle nuove generazioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.